Un distributore di carburante itinerante piazzato su un camioncino e la disponibilità ad effettuare rifornimenti con prezzi calmierati, un litro di diesel ad esempio a solo 1,40 euro centesimi, sarebbe un affare se non fosse che l'impianto è abusivo, nessuna licenza che consenta la vendita di carburanti e l'impossibilità di accertare la provenienza del carburante stesso. E così è finito nei guai un cinquantenne di Sant'Angelo del Pesco, sorpreso dalla Guardia di Finanza mentre effettuava un giro di rifornimento per gli automobilisti abruzzesi. Benzina o diesel, nessun problema, l'impianto era in grado di soddisfare qualsiasi bisogno. Le fiamme gialle della compagnia di Lanciano sono intervenute a colpo sicuro e non a caso, prima la segnalazione dello strano camioncino con l'impianto itinerante, poi una lunga serie di appostamenti. I finanzieri lo hanno fermato a Villa Santa Maria, comune abruzzese facilmente raggiungibile dalla provincia di Sernia. L'uomo è stato colto sul fatto stava rifornendo una vettura con una pistola di erogazione adattata appositamente ad una cisterna collocata su un autocarro leggero. Il cinquantenne è stato denunciato per i reati di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici e anche per ricettazione. Ulteriori accertamenti infatti mirano ad accertare l'origine del carburante venduto illecitamente. Le fiamme gialle hanno accertato la presenza di quattro cisterne di stoccaggio, della capacità complessiva di 70.000 litri, dotate di pistole erogatrici e di contalitri digitali. Sono state sequestrate unitamente ad oltre 4.600 litri di sostanza petrolifera e ad un POS per i pagamenti al fornitore, che evidentemente era attrezzato per tutte le esigenze degli automobilisti, compreso il pagamento digitale.